Salve, sono Giorgia Lattuca, da molti anni sono a servizio della rete italiana dei villaggi ecologici, ho esplorato tanti ruoli e ultimamente sto focalizzando la mia attenzione, il mio tempo, sulla facilitazione delle nuove comunità nascenti. Abbiamo dato vita nel 2017 a un progetto che si chiama CLIPS, Community Learning Incubator Program for Sustainability, è molto più lungo il titolo dell'essenza, l'essenza è fare comunità, come accompagnare i primi passi della vita degli ecovillaggi, delle comunità di gruppi intenzionali di vario natura, proprio per dare strumenti, pratiche e testimonianze che possano in qualche modo alleviare le fatiche dei primi momenti della nascita di un progetto. Non ci occupiamo soltanto di nuovi progetti, ma siamo a supporto e servizio anche di comunità, organizzazioni, associazioni, gruppi, che abbiano voglia di lavorare su di sé, di lavorare sul tema del conflitto, di rivivere e rivisitare la visione, per esempio creare nuovi progetti al loro interno, ristrutturarsi a livello di appunto organizzazione interna, e siamo diciamo a servizio proprio del gruppo come entità nel suo complesso. Vi presento Giulio Ferretto, è uno dei formatori e facilitatori CLIPS, siamo cinque persone all'interno del gruppo CLIPS, Giulio Ferretto, Riccardo Clemente, Jenny Carraro, Lucilla Borio ed io. Passate la parola Giulio? Sì, forse possiamo aggiungere il fatto che il CLIPS è una sorta di matrice, che appunto serve per accompagnare i processi che un gruppo di persone affronta, attraversa quando si mette in testa l'obiettivo, la visione di creare una comunità intenzionale, e che questi livelli sono l'individuo, la comunità appunto, l'intento, la struttura e infine la pratica. Attraverso il CLIPS si può andare a esplorare, ad approfondire tutto ciò, o almeno la maggior parte delle cose che possono accadere per questi livelli, così da essere pronti e pronte ad affrontare le possibilità che possono emergere con una consapevolezza e una preparazione che ci aiuta a non essere spazzati via dalle onde che a volte arrivano impreviste quando ci mettiamo insieme appunto. È previsto infatti un lavoro di diagnosi, quindi noi formiamo facilitatori che abbiano già esperienza all'interno dei loro gruppi e che vogliono acquisire questo modello concettuale, questo sguardo sistemico sul gruppo. Quindi per noi è importante questi livelli ci danno la misura del fatto che non è mai un tema isolato, ma che le dinamiche che un gruppo vive sono sempre molto trasversali e riguardano appunto dall'individuo al gruppo, ma anche l'intento, quindi perché ci siamo messi insieme alla nostra visione, alla nostra missione, e come ci si struttura, quindi anche dal punto di vista legale, organizzativo. Tutti i formatori e facilitatori Eclipse hanno in comune questo strumento di diagnosi, vari strumenti di diagnosi, e una volta che viene diagnosticato in quale di questi livelli il gruppo ha bisogno di lavorare, o almeno da dove iniziare, si struttura un programma di intervento, all'interno del quale poi ciascun facilitatore o formatore porta le proprie competenze. Quindi noi ci rivolgiamo a chi già lavora con gruppi, educatori, coach, counselor o facilitatori che abbiano il desiderio di apprendere questo modello che è nato dall'intelligenza collettiva di 11 paesi europei, da una strategic partnership finanziata dal programma europeo Erasmus+, proprio con l'obiettivo di mettere a servizio il patrimonio di conoscenze, di metodi, di strumenti di facilitazione che esisteva nel Global Ecovillage Network, quindi nella rete internazionale degli ecovillaggi, e metterle proprio a disposizione delle persone che volessero lavorare con i gruppi. Ci sarà una formazione che non è una formazione alla facilitazione, ma è una formazione appunto all'approccio CLIPS del lavoro sulle comunità, che quindi è prevalentemente una formazione per persone che già sono in cammino sulla via della facilitazione, e prestissimo verranno notizie sulle date, vero? Perché sta finito adesso, ad ottobre, il primo corso, che diciamo l'ha andato molto bene, con tanta affluenza, e partirà prestissimo anche la seconda edizione, quindi restate, come si dice? Connessi ai nostri canali, social, facebook, instagram, abbiamo il sito, il sito è sia in lingua inglese che in italiano, quindi se digitate CLIPS Italia, entrate in quello italiano, dove ci sono tantissime risorse scaricabili gratuitamente, tra cui la guida CLIPS, che dà uno sguardo d'insieme sul modello CLIPS e sugli strumenti che andiamo ad offrire. Lo potete scaricare, è tradotto in tante lingue europee. Volevo raccontare il fatto che adesso siamo a Merachi, dove c'è il raduno estivo del ventiquattresimo raduno della Rive. Merachi è uno degli ecovillaggi che è stato CLIPSato dai primissimi passi, da quando è arrivata l'idea, la visione del progetto siamo stati contattati e io personalmente li ho accompagnati in questi due anni e mezzo di vita ed è stato molto bello poter condividere con i partecipanti l'esperienza di facilitazione esterna che hanno vissuto i ragazzi e di formazione, perché in realtà poi c'è anche un trasferimento non soltanto di facilitazione, ma di consulenza proprio su pratiche che funzionano o non funzionano, raccolte da altri ecovillaggi. Quindi abbiamo coinvolto i partecipanti raccontando dei casi studio, la comunità si è aperta, messa a nudo davanti ai partecipanti e abbiamo insieme ragionato su punti di forza, punti di debolezza, criticità e opportunità che si incontrano nei cammini che percorrono gli ecovillaggi nei primi passi di vita. La RIVE ha dato vita al CLIPS insieme ad altri 11 paesi d'Europa grazie alla promozione da parte del Global Ecovillage Network di una strategic partnership finanziata dal programma Erasmus Plus e la RIVE insieme ad altre reti ha portato il contributo proprio di mettere a servizio metodi, strumenti di facilitazione, buone pratiche che nei suoi 30 anni di vita ha visto funzionassero per le comunità. Ad oggi tra i paesi partner di questo progetto europeo è tra le reti più attive che è riuscita ad implementare quindi all'interno del proprio paese il modello e trasmetterlo attraverso corsi di formazione, consulenze, facilitazioni e momenti come questo raduno in cui si possa diffondere questa cultura della facilitazione perché non è scontata. Tante comunità si trovano a sbagliare da sole e magari a rendersi conto quando è già troppo tardi che da sole non sempre si riesce a superare i momenti di impasse e conflitti. Quindi è anche quello l'obiettivo di questo progetto proprio di essere a servizio anche di quei momenti difficili e di offrire come rete italiana degli strumenti pratici poi a supporto e per diffondere la rete farla crescere sempre di più e supportare le nuove realtà nascenti. Uno dei valori aggiunti dei lavori di facilitazione e di accompagnamento ai gruppi è poter supportare il gruppo e le persone all'interno dei gruppi a fare un lavoro di ascolto di sé, di autoconsapevolezza, di autoconoscenza per far sì che ognuno di noi si possa portare nel mondo e splendere nella sua autenticità. Quindi il messaggio che voglio portare, che cerchiamo a volte di portare anche nel nostro lavoro è proprio quello di poter lavorare sulle relazioni più autentiche anche per poterci esprimere noi in maniera più autentica. Sì, molte volte quando ci mettiamo insieme per un progetto soprattutto se ci sono delle leadership molto forti il rischio è quello di uniformarsi e di perdere la diversità invece attraverso la facilitazione c'è proprio questa possibilità di far trasformare, di trasformare, di far emergere la diversità come una ricchezza da cui attingere per avere più abbondanza e più risorse per gruppi e comunità.